Sono Gino Nuzzo, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, candidato a sindaco per la lista Fratelli d'Italia. La mia scelta di portare un simbolo di partito a Santa Maria Vico in una competizione elettorale è solamente il culmine di un progetto iniziato già da qualche anno che ha visto protagonista non solo me, ma tutti i candidati che partecipano a queste elezioni amministrative, candidati che hanno dovuto dare un supporto, un valore aggiunto a quello che era il nostro progetto, un progetto che segue quelli che sono i principi fondamentali che Giorgia Meloni ci ha indicato nella sua attività politica. Coerenza è il primo elemento fondamentale, quella coerenza che Giorgia ha sempre voluto da noi, dai suoi dirigenti, dal punto di vista sia della vita normale sia dal punto di vista politico. Noi ripetiamo sempre che siamo un capriccio della politica, un capriccio perché siamo quella destra autonoma, quella destra indipendente, quella destra con cui tutti quanti devono avere a che fare, quella destra delle tradizioni che si tramanda da padre in figlio. Per questo motivo quella destra voluta oggi a Santa Maria Avvico diventa un vero e proprio laboratorio politico nazionale. Fondamentalmente io chiedo il voto ai cittadini di Santa Maria Avvico perché mi trovo ad essere parte di una generazione che ha visto le sue migliori eccellenze emigrare, perché i miei amici, non vorrei che i miei amici dovessero andare via da questo paese e non vorrei che i miei figli dovessero abbandonare questo paese. Mi trovo a chiedere il vostro voto perché soprattutto credo che negli ultimi anni non ci è stato dato peso a dei valori che Santa Maria Avvico ha delle eccellenze. Soprattutto non c'è quello che da sempre chiediamo, una zona industriale che possa dare un valore in più, uno sviluppo dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista lavorativo.